Ciao a tutti, quali sono le sue emozioni per me? Chi fosse interessato o interessata ad avere una risposta a questa domanda, segua il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscritti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne scelgo quattro casuali. La carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Allora, adesso concentrati su questa persona della quale vuoi conoscere i sentimenti, prenditi tutto il tempo necessario, puoi anche stoppare il video, puoi farlo ripartire, dopodiché scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3, la carta 4. Per chi ha scelto la carta 1, sentimenti positivi nei tuoi confronti che se coltivati nel modo giusto porteranno all'innamoramento. Chi ha scelto la carta 2, la torre, sentimenti negativi, torre al contrario, rottura. Chi ha scelto la carta 3, diciamo che è una persona molto superficiale, molto labile, quindi sentimenti molto superficiali. Chi ha scelto la carta 4, la morte, al contrario, diciamo che se aveva dei sentimenti, li sta perdendo per cambiamenti molto radicali nella sua vita. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti! Ciao a tutti!